Cos'è un vano? Dunque noi sappiamo che qui vogliamo dirci soggiorno, la cucina, la camera da letto e così via, però dobbiamo dirlo al programma. Per dirglielo, che qui ci sono delle aree, anzi dei volumi, all'interno del quale c'è una stanza, utilizziamo lo strumento vano. Ci sono varie possibilità di utilizzo di questo strumento, diciamo quella semplice, e andiamo nelle proprietà. Il vano fondamentalmente è uno spazio tridimensionale a cui noi attribuiamo un valore. Il valore in questo caso è il valore della camera. Per esempio, qui in descrizione o in funzione possiamo mettere cucina. L'altezza la possiamo decidere da qua, a 2,70 va bene. Dopodiché potremo inserire delle finiture, come rivestimenti laterali, soffitti, pavimenti, battiscopi e così via. E poi gli diciamo che cos'è quel vano, quella stanza, se è una stanza accessoria e quindi non è superficie abitabile, oppure è superficie abitabile come nel nostro caso. Basta cliccare su una di queste possibilità, in questo caso la nostra è una stanza, quindi clicchiamo qui. Questi valori si definiscono in base a dove clicchiamo e servono poi anche per il computometrico volendo. Premiamo ok e andiamo a dare i quattro punti della camera, altrimenti se è evidenziata questa possibilità, questa opzione, basta cliccare all'interno e si crea. Ovviamente il vano dà subito una sua etichetta, cucina, con i metri quadri della superficie del pavimento. Questo lo possiamo fare in un qualsiasi momento. Come ogni oggetto di architettura, basta andareci sopra e cliccare col tasto destro del mouse su un punto qualsiasi dell'oggetto e si crea questa tendina. Che abbiamo già visto, dove ci sono tutte le possibilità, dove c'è anche l'etichetta. Quindi la possiamo sistemare in qualsiasi momento. Probabilmente si può sistemare anche come dimensioni, come spaziatura, testo, tutte queste cose qua. Volendo si può dare anche il volume, il perimetro, tante cose. Ecco qui. Ovviamente questo è nel layer moda natura, perché non l'abbiamo cambiato. Per cambiare il layer di questo oggetto, basta cliccare col control sull'oggetto stesso. E si apre ovviamente la proprietà del formato. Noi gli vogliamo dare come layer il vano. Ecco qui. E diamo come layer vano anche ai testi. Ecco fatto. Analogamente per le varie camere. Non so. Qui avremo la camera. Da letto. Eccola qui. Poi c'è il bagno. Poi abbiamo il corridoio. O il disimpegno. Forse è meglio. Eccolo qui. Dopodiché abbiamo il soggiorno. Possiamo eventualmente anche andarlo ad aggiustare, nel senso che ovviamente la superficie utile del pavimento sarà questa. Oppure se c'è un sottoscala, possiamo anche andare a ampliare questa superficie nel sottoscala. Comunque, diciamo, questo è ciò. Andiamo a primo piano. E anche qui andiamo ad inserire tutte le varie... Dunque qui abbiamo una camera. Andiamo subito a scegliere... Quando clicchiamo qui, andiamo subito a impostare il vano che altrimenti tutte le volte dobbiamo sistemarcelo. Camera. Un'altra camera. Poi abbiamo il bagno. E questo è un disimpegno molto grande. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo a sistemare questa finestra attraverso il strumento sposta. La spostiamo, per esempio, di mezzo metro. E analogamente a piano terra. Qui, oltre a spostare la porta a finestra che c'è a piano terra, sistemiamo anche la base. Attraverso questo strumento modifica punti, prende i punti degli oggetti tridimensionali, sia architettonici che non, e li va a sistemare in un'altra zona. Ok. Ora, i vani, a parte indicare in ogni momento la dimensione della camera, sono utili perché se c'è da fare una modifica, per esempio vogliamo ampliare la cameretta piccola, vogliamo portarla, non so, un po' più grande, in qualsiasi momento, muovendo anche il vano, sappiamo esattamente la superficie di quella camera. Utilizziamo sempre questo strumento per muovere i punti, prendiamo l'intera parete, e la portiamo in avanti, non so, di 30 centimetri. Ovviamente, sia il disimpegno che la camera, modificano la loro superficie, la modifico immediatamente. Quindi sappiamo in ogni momento con quanta superficie stiamo lavorando. E non è poco. Ora possiamo inserire tutti quegli oggetti bidimensionali, come per esempio l'arredo, gli impianti, che vanno a completare le piante dei nostri edifici. Questi si possono creare attraverso il CAD2D, oppure, cosa molto utile, si possono creare e poi salvare dentro l'archivio, il catalogo dei simboli. In questo modo, quando si richiamano, questi rimangono comunque un simbolo a sé stante, e tenendo premuto il tasto SHIFT, si possono selezionare tutti in una volta. Vi mostro. Per esempio, abbiamo qui già un termosifone nel bagno, andiamo a mettere il termosifone con un determinato angolo, 90 gradi, eccolo qua, e poi possiamo andare a prendere, per esempio, un letto, da mettere in camera da letto. Questo qua. Il punto di origine direi che è questo. Posizioniamo qui, e gli diamo meno 90. Andiamo a sistemarlo meglio, perché sta entrando in un muro. Per esempio, così. E così si può andare avanti, sistemare tutti gli altri impianti, gli arredi, così. Normalmente, sia i vani, una volta creati, che gli arredi, o gli impianti, tutto ciò che è 2D, si posiziona in un quadro a sé. Questo per evitare di spegnere e riaccendere tutte le volte i quadri, i layer relativi ai vani o all'arredo, quando si fanno delle modifiche. Però è a discrezione. Io normalmente li posiziono su un altro quadro. Però li devo selezionare. Come faccio a selezionare solo questi e non, per esempio, i muri? Vado nel filtro. Qui ci sono vari tipi di filtro. Quello più usato è il filtro dei layer, ovviamente. E vado a selezionare il vano, l'arredo e gli impianti. Faccio OK. Faccio la finestra di selezione, ma verranno evidenziati soltanto gli oggetti sui layer che ho detto. CTRL-X. E poi vado in un quadro vuoto. Tipo questo. CTRL-ALT-V. Ed ecco qua. E qui ci sono, possiamo poi sistemare meglio le varie cose. Ecco. Ci sono gli oggetti bidimensionali e i vani, che così non vanno a interferire nella scena se per esempio devo fare delle modifiche. e posso chiamare vani Pt o arredo piano terra. E così via lo faccio anche per il primo piano. filtriamo. Si possono filtrare anche attraverso i colori o il tipo di penna, ma quello diciamo più utilizzato è il layer. In questo caso ci sono solo dei vani, perché non ho messo nessun tipo di arredo. Questo è utile farlo dopo che si sono calcolati i vani, perché i vani si calcolano direttamente nel quadro dei muri, in modo tale che si posizionino esattamente. Ecco. A questo punto, per calcolarci l'intera superficie di un piano, per esempio, dell'intera villetta, dovremmo tornare nei vani, darci prendere una calcolatrice e calcolarci la somma di tutti questi valori. Altrimenti Alpern ha un'altra possibilità, molto interessante, perché anche questa si aggiorna continuamente ogni volta che c'è una modifica. Che sono i gruppi vano? Sono questi qua. Un gruppo vano si può creare, esplodere o modificare, adesso lo dobbiamo creare perché non esiste ancora nulla. Andiamo a selezionare tutti gli oggetti che vogliamo inserire nel nostro gruppo vano. Dovano essere ovviamente tutti i vani. Una volta selezionati, gli si può anche dare eventualmente un tratteggio, o una finitura, un bordo. Queste cose qua. Altrimenti, possiamo direttamente andarceli a creare, facendo applica. Ovviamente ci sono vari tipi di stili di etichetta che si possono applicare. A noi va benissimo questo, però insomma si possono anche modificare eventualmente. e andiamo a posizionarci qua il piano terra. Ovviamente il nome si può modificare da qua. Facciamo chiudi. Quindi sappiamo che il piano terra abbiamo 60 metri quadri. Andiamo al primo piano e facciamo la stessa cosa. In questo caso è primo piano. Ok. Evidenziamo tutto. E facciamo applica. Eccolo qua. Quindi a primo piano abbiamo 47,29 metri quadri. Eventualmente, mettendo attivi entrambi i quadri con dentro i vani, possiamo anche selezionarli tutti i vani e avere l'intero edificio. Normalmente si preferisce dividerelo per piano, anche per vedere quant'è per ogni piano la superficie totale. In questo caso avremo circa 108 metri quadri. Ok. Grazie.